Il gruppo regionale di Forza Italia ha contestato la delibera della giunta d'Alfonso del 23 dicembre scorso relativa alla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità derivante dalle forti infestazioni parassitarie della mosca olearia sulle produzioni olivicole nella nostra regione. Nel provvedimento dell'esecutivo sono stati inseriti solo 19 comuni di cui 11 pescaresi e 8 dell'Aquilano. Hanno denunciato Mauro Febo, presidente della commissione di vigilanza del consiglio regionale già assessore all'agricoltura e Lorenzo Sospiri, capogruppo consigliare Azzurro, che si sono detti sconcertati e stupiti da questa scelta che esclude i comuni del Chietino e del Terramano. La regione Abruzzo ha 66.000 aziende agricole, ben 61.000 producono olio, abbiamo un calo valutabile tra il 75% e l'80%, all'improvviso l'assessore Pepe, la regione Abruzzo dice di essere intervenuto con un provvedimento per la richiesta di calamità. Noi sappiamo che la richiesta di calamità è un provvedimento eccezionale, difficilmente ci viene riconosciuto, ma soprattutto è un provvedimento che oggi danneggia tutti gli abruzzesi perché le calamità si pagano con l'aumento delle accise sulla benzina. Devo segnalare che la comunità europea interviene per le polizie assicurative, interviene lo Stato, normalmente negli altri anni è intervenuta la regione Abruzzo, abbiamo sempre stanziato dei fondi. Quest'anno abbiamo stanziato, perché Forza Italia, io e il collega Sospire abbiamo sottoscritto un emendamento, solo 150.000 euro. Veramente ciò che è stato annunciato dall'assessore Pepe, grida vendetta e soprattutto io spero che le organizzazioni professionali intervengano per censurare l'operato di questo governo regionale e soprattutto dall'assessore Pepe.